Il film si intitola Il venditore di medicina e io sono Bruno del film, che è un informatore medico scientifico, che di fatto per spingere e promuovere i farmaci della propria azienda corrompe i vari medici con dei regali più o meno costosi, viaggi esotici eccetera eccetera ed è un po' un film che racconta appunto il percorso di quest'uomo che per inseguire questo sogno, questo status sociale di ricchezza distrugge i suoi ideali, distrugge la sua famiglia distrugge tutto quello che ama ed è un po' un film che racconta appunto attraverso la storia di questo personaggio che è un po' l'ultima ruota del carro in questo sistema, racconta un sistema più grande e credo che questo film abbia il compito di informare prima di tutto è di accendere una luce in più nella coscienza degli spettatori, cioè di proteggere le persone che dovrebbero essere protette, al contrario dal sistema sanitario che molto spesso è corrotto e non sono soltanto casi isolati ma è una cosa veramente generale di un sistema che funziona così in tutto il mondo. Questo.